Allora, noi dobbiamo proteggere sto schifo di... Ah, sarebbe questa la missione, proteggere con una pistola di merda, ok? Sì, sì. Ah! Ma ho l'impressione che possiamo comprare, cioè noi facciamo le kill... Oh, da sinistra! Oh, oh! Oddio! No, va! Levarco, carico! Oh, però le Five-Seven ci stanno! Parla il giro? Oh, Dio! Sta volando quello, cos'è? Vedevo uno volare. Bam! Soldi? La bomba! No! Che? Che slidey! Loro devono piazzare la bomba! Quindi ce l'abbiamo noi! Visto che c'è anche lui! Abbiamo tutta la vita, ora! Sì, sì! No, a meno che non gli da due bombe, vivo! Ma scusa, sono passati i dieci secondi, no? Oddio! Oddio, un esercito! Ah, non vedo niente! Uno, due... Mi sono acceccato, aiuto! Sì, 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 ci sono... Madonna mia! Eh, bravo! Ma gli altri? Vaffanculo! Oddio! Oddio, eccolo! Oddio! Dove, dove? Bam! Perfetto! Perfetto! Possiamo comprare in ogni angolo della stanza! Protect the bomb site! Wave... One! No, quindi... Quindi hanno una vittoria! Ah, hai sparato te! Sì, sì! Allora, qui non c'è nessuno! Cento pa... Cento tanti passi! Oddio, sei troppo lontano dal... Dal sito bomba! Eccoli, eccoli! Dove, dove, dove? Da dove? Da dove stavo andando io! Non c'era nessuno qua! Oddio! Doppio in testa! Eh, va bene! Oddio! Guardalo! Illegale! Ok! Perfetto! Vola di gol! Vola di gol! Vola di gol! Aia! Ma è modificato! Sì, sì! Alla skin! Alla skin! Io sono povero! Guardami negli occhi! Oh madonna! Oh mio Dio! Che... che begli occhi! Quanti? Pam! Uno! Pam due! Oddio! Aia! Sono bruciato! Alberto Parzanelli! Eh, Parzanelli! Fa vedere la tua favolosa foto? Guardalo! 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 Fanno il giro! Fanno il giro! Lo vede inginocchiato quello! Sì, anch'io! Guardala! Possiamo prendere le loro... Uuuu! 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 Stavo per fare... Un errore grammaticale! Vela! Attenzione! Ti... ti reporto la maestra! Attento! No! La... la pistola... Guardalo! Guardalo! Te l'hai fatta? Sì, sì! Che... che c'è? Oddio no! Sono fuori dal... Che brutto rumore! Ma sono 62 di... di vita ciò! Oh no! Ti sento raggare! Ti sento raggare! Ti sento raggare! Ma senti? Cosa? Cosa? Cos'era? Eh... Stava laggando TS! Di brutto! Cos'è sta arma? Ah, una capa... Ma come direbbero alcuni... Guardami negli occhi quando ti parlo... Da brutto! Da brutto! Ma come non hai occhi? Aspetta, fatti vedere... Eh, sei un soldato! Ahahahah! Arrivano i nemici! C'hai gli occhi sbarca! Ahia! C'ho 11 HP! Si! In mezzo, in mezzo! In mezzo, vai! Arrivati! Ma cosa? Nooo! Come? Ma cosa mi ho ucciso? Con la WP... No, con la K mi ho ucciso sto! Non... non ci sto capendo niente! Oddio! Non ci sto... Sto capendo niente! Come stai? Bene! Arrivando lì! Perfect! Fammi da... No, ovvero non si può! Perfect! Bene! Alberto Barzanelli! Guardali! Guardali! Che illegale! Oh! Guarda la mini... La mini mappa! Aiuto! Oh! Oh! T'ho sparato con sbaglio! Guarda questo! Guarda questo! Ma cosa... Cosa fa questo? Mio Dio! Ah! Hanno rotto le... Hanno rotto le pale che se ne vanno sempre fuori dalla mappa! Sì sì! Non ho più sciogli! Non ho più sciogli! Ti dirò io dai, barboni! No, in realtà... Aia! Stavo scherzando! In realtà c'è gli o... Solo che è finito... Oddio! Oddio! Aia! 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 Aiuto! Mi hanno massacrato! Ma che... Te lo... Sembra di giocare! Aia! Aia! Per figa succede! Eccoli! 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 Oddio! Oh! Ah! Guarda lì! Guarda lì! Mamma mia! Ma... Guardalo! Guardalo! Perché... Perché ha fatto il giro lui? Aspetta! Guardami! Guardami! Allora! Oh! Oddio! Aiuto! Aiuto! Sto morendo! Io ho 8 di salute quando esco! Non li vedo più! Guarda stanno qua! Stanno... Là! È là! Il giro! Fanno il giro! Fanno il giro! Sì 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 sì! Ah! 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 Oddio! Un prezzo di merda! Ah! Oddio! No! 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 Non ti fai! Non ti fai! È uno! No! Quanto faccio schifero! Prendi una! Prendi una! Prendi questa! Ma è immortale? Ma chi è? Bah! Ah! Mi botto il cazzo duro! Ti mani? Oh! Madonna! Vai da lì! Ah! Ma la vita! La vita! Ecco! Ci si... Cosa! Ci si rigenerà la c... Fega! Oddio! Devo vomitare! Devi vomitare! Sì! Ma che c***o! Ma la smette! Oh! Oh! Allora! Salve signor! Tantano! Tantatan! Sono! Oh! Sono! Due! Cosa! Yeah! Yeah! Cosa! Ma è questo è il... Cosa! Ah! Abbiamo finito la missione! Scopo ogni giorno! Sì! Ma stai registrando? Sì! Merda! No! Ti giuro! Pensavo che non stai registrando! No! No! Taglia! Sono! drafto? Vi